Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio elettorale sulle intenzioni di voto politiche nazionali fatta per la trasmissione Agora di Rai 3. Il partito di Matteo Salvini avanza e cresce di uno 0,4% e si attesta al 24,1%. Il PD perde lo 0,1% e scende al 20%, quindi aumenta la distanza fra il primo e il secondo partito di un 4,1%. Perde Terreno Fratelli d'Italia che scende dello 0,3% e si attesta al 16,1%. Anche il Movimento 5 Stelle perde lo 0,1% e scende al 14%. Cresce Forza Italia che arriva al 7,6% con un incremento dello 0,1% e Italia Viva cresce dello 0,1% e arriva al 4,1%. Cresce anche Azione di Calenda che cresce dello 0,1% e si attesta al 3,6%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.